La DHS, cioè il shock inaspettato, in effetti noi lo facciamo già nel ventre della mamma e nei primi 4-5 mesi di vita, in tutto quel tempolino. Vi ho fatto già questi esempi, ma comunque le ripeto, sono semplici, nel senso che ho un rumore forte, un aspirapolo e voglio scappare, non posso, faccio il motorio, la mamma è incazzata, triste, stringe i vasi, mi manca l'ossigeno, mi manca da mangiare, il parto, sono schiacciato, soffocato, muoio, vengono fuori, mi picchiano, mi impungono, mi sbattono sul bilancio, mi aspirano, mi mettono in un lettino da solo con una cosa dura, lontano dal cuore del bumbum, cioè sentire il bumbum del cuore della mamma, profugo, separazione, morte, ma di tutto, cosa ne ho fatto? E lo dice anche il dottor Hamer, quando si vede un attack, per esempio, dopo il terzo giorno dalla nascita di un bimbo, è pieno di edemi, no? Perché è una cosa proprio, ecco. E poi arriviamo a casa e c'è il fratellone che ti caccia il dito nel naso, io ho cercato con un'erba di metterci nel naso del mio fratello, oppure c'è la mamma che lì tiene il papà, o la nonna che rimprova la mamma, insomma, quelle solite cose, no? Quindi, diciamo, a tre, quattro mesi, cinque mesi di vita, un anno di esistenza, qual è l'area cerebrale che non è stata attivata? Tutte, praticamente, no? E riprendo questo esempio, sempre lo stesso, però è proprio, mi accorgo che è semplice, è quello di mio figlio, con il singhiozzo, no? Che forse avete già sentito in qualche conferenza, ma dico, dove io gli do, lui ha il singhiozzo, gli do le gocce di limone, due gocce di limone, il singhiozzo se ne va. Ma non dice niente, dico, vabbè, gli piace il limone. Dopo due mesi, stessa scena, intanto capita ogni tanto, ma quando avrà due mesi, anche lì, il singhiozzo, gli do due gocce, e lui, ah, e dico, cosa fai con la faccia? Le papille gustative per l'acido maturano verso i due mesi, quindi lui ha avuto questo shock inaspettato di questo acido che entra in bocca. Immediatamente attivazione del tronco cerebrale che dirige le gandole salivari che, essendo endoderma, in fase attiva aumento di funzione, producono più saliva per controbilanciare questo acido. Questa è la risposta immediata biologica, non è pensata. Ma lui non si ricorderà del papà che gli dava le gocce. Per cui lui non si ricorda del papà che gli dava la gocce, ma si ricorderà tutta la vita della sensazione del limone nella sua bocca. E se voi immaginate di morsicare di quei limoni astri che... viene l'acquolina immediata. Ma non c'è il limone. Oppure se vedete Mr. Bean alla televisione che mangia il limone, no? Mi viene l'acquolina in bocca. Perché noi funzioniamo molto semplicemente in base a tutto quell'imprinting lì. Tutto il tempo, tutta la vita, per i primi 99 anni, dopo non lo so, però per i primi 99 anni, dove è come se... Cioè, quella voce grossa, come papà, mi attiva quello. Quella mamma che si piange addosso, mi attiva quello. Cioè, sempre immediato. Per cui, ecco che noi, quando è la stessa cosa, se io sto di nuovo mangiando il limone, io faccio cosiddetta recidiva. E prima di addentrare il limone c'ho già l'acquolina in bocca. Perché, appunto, la sensazione... Cioè, è sensato biologicamente che io sia già preparato, no? E invece, se vedo Mr. Bean alla televisione, mi ricorda come se... e io ho l'acquolina in bocca. Quindi abbiamo quello del recidive e binari, no? Ma noi, in effetti, non facciamo la DHS a 10, 15, 30, 50 anni. Andiamo sempre a riganciare quello che è stato, ok? Ecco perché questa cosa ci indica un'altra situazione. Non c'è un conflitto attivo, un conflitto risolto, no. Abbiamo decine di migliaia di attivazioni al giorno. Come una barchetta, no? Sul mare, con le onde, con il vento. E continuiamo a giustarci. Quello che invece poi resta, e questo adesso passo la parola a Monique, quello che resta saranno poi quelle situazioni che tracimano, cioè che sono più grandi, dalla nostra capacità di contenimento. E quindi quello sarà poi quello che noi andiamo a trattare. Però, appunto, è importante che noi abbiamo costantemente centinaia, centinaia di attivazioni che durano magari una frazione di secondo, però ci sono. E sono sempre in base a quello che abbiamo acquisito come imprinting nel primo anno di esistenza. Grazie a tutti.